e siamo alla fine della pescata ora vediamo un po che succede bellissima pescata a naro sicilia questo è il lago di san lucio è la madonna ce la fai? sì ciao saremo sui 70 kg? 50? 40 kg dai insomma due ore buono butta dentro dai butta dentro aspetta aspetta la fai?